300 ragazzi, 300! Se è il sangue che cercate, siete i benvenuti tra noi. Tu, dimmi, qual è il tuo mestiere? Cazzo c'è Davide, mica dò 3 milioni. Visto caro amico, ho portato molti più soldati di te. Ciao piccoli scarafaggi, vi volevo ringraziare perché siamo arrivati a 300 iscritti. So che magari, pensando ai grandi numeri, possa essere una cazzata rispetto a chi ce n'ha 100.000, 300.000, 1.000.000, 5.000.000. Però veder crescere un canale che era rimasto fermo da un paio di anni e piano piano vedere aumentare gli iscritti giorno per giorno è una soddisfazione immensa. Perché è una crescita organica e non è finta. E quindi questo veramente mi dà un sacco di soddisfazione e vuol dire che quello che sto facendo lo sto facendo bene. Volevo ringraziare i miei primi sost... Volevo ringraziare i miei primi sostenitori che mi hanno sempre seguito e che continuano a supportarmi. Tipo FGJKK, iscritto storico e arriveremo a 145.000, poi c'è Bad Fox, c'è Massimiliano, Mario Lino... Insomma i primi iscritti che hanno cominciato a seguire questi tutorial. La soddisfazione ragazzi è vedere che comunque si iscrivono tante persone che stanno cominciando anche da poco a suonare il pianoforte e mi dicono che stanno ottenendo dei miglioramenti. Questo mi rende molto felice perché quando serviva a me un aiuto, quando ero più ragazzo anche, non mi si inculava nessuno. Cioè nessuno sta lì a dirti come fare, come non fare, a darti dei consigli. Quindi il vedere che posso essere utile a qualcuno più giovane che ha bisogno e che trova dei miglioramenti in quello che fa per me è fonte veramente di grande soddisfazione e mi dà voglia ancora di fare di più. Tempo fuori c'è avuto un commento di un ragazzo che mi ha detto non puoi capire quanto sto migliorando grazie ai tuoi tutorial. Questa è una grande forza, perciò continuate ad iscrivervi al canale. Cerchiamo di creare questo gruppone della madonna immenso. L'obiettivo il più piccolo adesso è di arrivare a 500 iscritti. Quindi vediamo quanto tempo ci mettiamo. Io continuerò a prepararvi dei tutorial. Intanto sto lavorando ad un altro video che uscirà nei prossimi giorni. Volevo ancora dirvi grazie perché se ci siete voi ci sono anch'io, se non ci sarete voi non ci sarò più io. Ho capito che delle volte dare è meglio di ricevere. Ma comunque io sto dando a voi, ma voi state dando di conseguenza anche a me perché commentate, perché interagite e perché vi state iscrivendo al canale. Spero di portarvi sempre dei contenuti anche diversi di tutto quello che ho sempre fatto, le mie canzoni, l'home recording, parlarvi anche di un'attività ventennale di musica per eventi e feste private. Lasciatemi qui sotto un sacco di commenti, domande, cose che volete sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Pollice!